200mg è uscito una foto muro chi è? chi dà? un altro nanaggia e qua c'è uno blitz troppo non dà qua e... sto qua ho scappato al pericolo mamma mia aspetta tasto uccle niente adattarci large attacca on therch ai dai speriamo morto uffa voglio allenare Gates uso un altro pokemon e buttiamo dentro i Dabba oh i Dabba il cavo di piccione e Dabba è salito all'ombice è un paro attacco rapido aspetta no ma ho visto sta sgile l'avevo evitato apposta che si ha detto a Bimba ah è quello che si evolve in si evolve no non mi viene in mente di rivoluzione però sono già capito quella paralizzante cacchio è già paralizzato mandalo su non lo so Bimba qui dove? dove è la P? andiamo a cercare la P non mi viene in mente di rivoluzione allora fico non mi viene in mente di rivoluzione è la P 3 3 3 4 5 6 6 8 8 9 10 10 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 16 15 16 del 19 e cuore pokemon grazie ci penso di rimettere in forza e no non sono solo per quello ma vati qua cosa c'è di qua? hai trovato una mega ball? no sinceramente non ho pensato neanche di prendere un po' come di tipo erba ho pensato uno di fuoco, uno d'acqua, uno di terra, uno elettrico e uno volante che dovrebbero esserci un po' più quello che utilizzo tutte le man che ruolo? C'è una rivoluzione shiny su... Horus C'è una roba veramente chi è che potrei prendere, non lo so Ho sbagliato al mosso C'è un Ds, altrimenti ti dicevo che c'avrei avuto di tipo erba Che di qua c'ho solo il 3 Ds Allovo, allovo, allovo Hai visto come ero posto il mio poco? Ti importo Undershock Perché è ruggito? E perchè sparano i bot giù sotto? Cosa mi? Allora, devi far blitzel on the short line Che fastidio sta scritta Allora, ogni tanto prenderci il drop of frame Un attimo No, no No, dove è andato a finire? Proprio un attimo Dico il cram Per vedere Mi sono nemmeno detto che sto perdendo un drop in vedere Intanto non mi va caricando nulla perchè sennò mi è possibile coltare la panda Cosa No Ma Ma Dico Non Non Ma 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 Ehm, se sono messi a sperverà. Timpolo! Cercavo lui? timbo, timbo mondo shock ah si, devo dare conto che mi imparava doppio calcio blitzel se l'ha imparava c'è sempre da vedere quel dilemma non posso arrivare a livello 100 che mi impara una mossa di tipo lotta no, non l'ha impara mai doppio torre, doppio calcio, una mossa è una mossa uovo che la può avere? è morto usiamo siamo speed up, vuol dire attacco rabido e via rabido? perchè l'ho tutto rabido? percorso 6 ah il percorso 6 no, è lontano cioè safety security o che fai no, non rafficalo no, 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 no ho sbagliato, ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato no, non lo tirare noo manca Ah, ma nage Oh che buvo Bacca buvo, bacca buvo Timbolo stato fatto fatto timbu timbu, perchè timbu timbu? forza è male non lo chiamo timbu 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 no 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 timbu timbu no 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 tanto continuano ancora per poco ho visto che la metà dei frame non riesco a stemmarla ergo evito no 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 se perdi straladella